Il business dei contenuti video è estremamente importante nel mondo del marketing e della comunicazione, data l'opportunità che la rete offre, per sua natura, di poter piazzare i video sui siti in maniera molto semplice. Con il video vale in parte lo stesso linguaggio della fotografia, con la differenza rispetto a quest'ultima che la ripresa vanta maggiore autenticità, proprio per la sua imperfezione. Pensiamo al tremore della mano, per esempio, ma è proprio questo aspetto di imperfezione e autenticità che ci fa affezionare al marchio.